Ciao, come tutti sappiamo non è la bocca ma sono gli occhi a parlare. In questo senso le mascherine ci rendono sinceri anche quando non vogliamo esserlo. Beh, quante volte ci è capitato di fingere un'espressione interessata? Beh, ci aiutava la bocca, quel finto sorriso stampato in faccia. Ma con le mascherine parlano solo gli occhi. Guardate l'esempio. Senza il sorriso è evidente l'intenzione degli occhi che dice ma senti le stronzate sto dicendo questo. Quindi facciamo prima a dire come la pensiamo veramente. Tanto si vede dagli occhi. Ciao a tutti.